Tra i componenti della delegazione della Caritas italiana guidata dal direttore nazionale Don Marco Pagnello c'è anche il direttore della Caritas diocesana nissena Giuseppe Paruzzo. Un viaggio dall'11 al 15 marzo di solidarietà da parte della Chiesa italiana per aiutare la popolazione ucraina arrivata e accolta nei vari centri presenti nelle città vicino al confine tra Polonia, Romania, Moldavia e Ungheria. Lui si trova esattamente nelle potendopoli che ospitano i profughi che scappano e fuggono dall'Ucraina quindi in Moldavia, in Polonia e in Romania. La situazione in Polonia e in Romania in particolare è molto critica da quello che lui descriveva perché comunque lì giungono migliaia e migliaia di persone dai vari centri abitati che sono stati colpiti e devastati dai bombardamenti. Diversi centri vaccinali, abbe vaccinali o comunque anche oratori sono stati trasformati in centri di accoglienza dove si offre un pasto caldo, un posto letto e il soccorso immediato. Molti profughi continuano poi il loro percorso spostandosi verso la Germania dove si ricongiungono con diversi parenti e familiari che hanno lì nella nazione tedesca molti invece si stanno preparando poi a venire in Italia o anche negli altri paesi europei che stanno comunque organizzando appunto l'accoglienza. Intanto la Caritas della diocesi nissena continua l'opera di solidarietà verso la popolazione ucraina aderendo alla raccolta fondi avviata dalla Caritas italiana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.